Benedica i nostri propositi, lenisca le nostre sofferenze, ravvivi la nostra fede e ci conduca al banchetto della vita. Lasciamoci, cari fratelli e sorelle, condurre da Maria nel nostro pellegrinaggio terreno da figli, mettendoci nelle mani della più tenera tra le madri. Dio stesso, per il tempo difficile che viviamo, ci viene sempre in soccorso attraverso l'amore materno di Maria e ci indica la via della salvezza, la via della santità. Per questo le nostre labbra con fede proclamano Avo Maria degli Angeli, Avo Madre dei Credenti, Avo Regina e Porta del Cielo, scenda sul tuo popolo nel prossimo giubileo una pioggia di grazia e si apra a tutti la porta del paradiso. Amen.